Orizzonti di montagne, che cosa c'è di là? Le pianure e poi il mare si vedrà. Gira intorno senza fretta e l'aria che mi porta sulle ali come vele e gli occhi in giù. Cosa si muove? Cosa si muove? Non mi posso allontanare, il mio nido è qua. C'è qualcuno che mi aspetta in cima alla... Dove possono le aquile c'è una sicura solitudine e solo il lampo abiterà. Cosa si muove? Cosa si muove? Io potrei girare il mondo, ma devo restare qui. Cosa si muove? 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 Grazie a tutti